Per chi li ha sempre visti solo in fotografia o nei documentari, è un'emozione indimenticabile, che vale sicuramente la pena di una scarpinata lungo la ripida mulattiera che sale da Valbondione alle baite di Maslana. Parliamo dell'incontro ravvicinato con il numeroso branco di Stambecchi, che in primavera sceglie l'erba nuova di questa zona per il suo pascolo serale. È un fenomeno abbastanza comune e diciamo originale della Valbondione e di Maslana in particolare. Gli Stambecchi arrivano qua, compiono la loro transumanza verso fine dicembre, inizio gennaio e stazionano qui alle baite di Maslana per 5-6 mesi. Come possiamo vedere alla fine di maggio sono qua ancora e vi resteranno verosimilmente ancora per una settimana, 15 giorni. È comunque legato alla permanenza della neve in quota, la loro presenza qua. Il motivo è esclusivamente l'erba. Loro qua trovano le erbette migliori, le più tenere, che alle alte quote non sono ancora presenti, causa la permanenza protratta della neve. Per nulla infastiditi dalla nostra presenza, gli Stambecchi di Maslana dimostrano non solo di essere tolleranti con le bestie a due zampe come noi, ma anche generosi e protettivi con animali che non fanno parte della loro specie. È una storia abbastanza originale che è nata 3-4 mesi fa quando questa femmina di Capriolo è stata adottata dal branco degli Stambecchi che girano in Maslana. È stata adottata, dico, perché l'ho sempre vista girare assieme e le segnalazioni dicevano queste. Io ricordo che credevo poco a questa leggenda perché sono salito una decina di volte, ho fatto diversi appostamenti e dopo dieci tentativi sono riuscito a beccarla, cosa che adesso è anche abbastanza semplice perché probabilmente ha visto che la gente gira e non le fa del male, quindi è anche abbastanza semplice incontrarla in mezzo agli Stambecchi. Chi volesse ammirare più a lungo questi esemplari di fauna alpina e lo splendido ambiente naturale in cui vivono potrà seguire lo speciale che la nostra emittente dedica a loro in una delle prossime puntate di Bergamasca Ieri e Oggi.